Cosa ci fai là? Forza, entra! Ciao! Come va? Ah, va? Chi hai fatto? Sono caduta dalla bici. Voglio cambiare tutte le serrature, sopra e sotto. Devo dirvi una cosa. Una violenza? Sì, mio mio. Che ti ha detto la polizia? Non ci sei andata. Beh, ordiniamo. L'accordo sul fatto, si era nascosto tra i cespugli e osservava la sua casa. È riuscito a vederlo in faccia? No, aveva una maschera, una specie di passamontagna. Accompagnala tu. Certo. No, non si disturbi. Mi piace la tua felpa. Vai a sciare? Se vuoi ti ci porto. Dovremmo stare ancora insieme. È colpa tua. Mi hai lasciato tu, Michelle. Tu mi hai picchiata. Devi entrare nei computer di tutti i dipendenti. È un reato molto grave. C'è un pazzo qui in giro. Ai pazzi sono abituata, è la mia specialità. La più pericolosa, Michelle, sei comunque tu. È un pazzo qui in giro. La più pericolosa, Emma, è la mia specialità. Grazie.